Bene, con i ragazzi del Maffioli, come è andata questa prova e che traccia avete scelto? A me è andata bene, io ho scelto la C1 che parlava del tema Covid e siccome è un tema molto attuale allora ho voluto approfondirlo spiegando anche i miei punti di vista e come l'ho vissuto io a casa essendo tornata dal PCTO appena in tempo, insomma. Tu cosa hai scelto? Io ho scelto la traccia C2 che parlava sul cyberbullismo e su tutta quella questione della rete in internet. E come pensi sia andata? Allora io penso che sia andata bene, anche perché ho scelto la sua stessa traccia, quindi sì sì. Erano temi che sentivate vicini? Sì, abbastanza, abbastanza attuali, abbastanza vissuti, vicini, quindi è stato anche facile approfondirli. Ecco, come ultima domanda, certo lo scenario in cui vi prendete la maturità non è certo dei più sereni, però avete speranza per il futuro? Sì, sì sì sì, bisogna se no. Esatto, la speranza è l'ultima a morire.